Sono iniziate le ultime 72 ore prima del silenzio elettorale che scatterà alla mezzanotte tra venerdì e sabato. I sette candidati alla carica di primo cittadino e i relativi candidati al consiglio comunale sono impegnati negli ultimi comizi. Tutti chiuderanno la campagna elettorale venerdì. Biondi, Cambiano, Ciotta e Galanti hanno scelto Piazza Progresso e a breve verrà comunicato l'ordine di apparizione sul palco mondato sotto il municipio. Mantia comizierà per l'ultima volta in piazza Tilio Regolo, Montana in piazza Edana e Ripellino in piazzetta Padre Pio. A più riprese abbiamo fornito il numero legato agli eventi diritto al voto. L'ufficio elettorale di Corso Roma ha comunicato che gli iscritti sono 42.256, compresi però quelli inseriti nella nagrafe italiana residenti all'estero, che sono 12.593. Sottraendo questo ultimo dato al computo totale, gli elettori effettivi si ridurrebbero a 29.762. Pertanto, qualora gli emigrati dovessero decidere di non tornare per votare, non si arriverebbe nemmeno a 30.000 elettori. Un'ulteriore scrematura la si può poi ancora fare con gli universitari fuorisede. Sendendone un buon numero via web, l'impressione che abbiamo avuto è che solo un esigue percentuale tornerà allicata nel weekend tra il 31 maggio e l'1 giugno per esercitare il proprio diritto di voto. Al netto dei dati ufficiali forniti dagli uffici comunali, c'è da ritenere che il dato dei votanti in questa tornata non si distaccherà di molto rispetto a quelli del giugno 2013. In quel caso, a recarsi alle urne furono 22.667 licatesi con 20.867 voti validi alle liste e 18.408 per l'elezione del primo cittadino. 740 sono poi gli appena maggiorenni che per la prima volta avranno la facoltà di esprimere il voto. E' intanto pronta per essere messa in moto la macchina burocratica. Il sorteggio dei 210 scrutinatori che verranno distribuiti nelle 42 sezioni e la nomina del presidente dell'ufficio della commissione elettorale, il giudice onorario Giuseppe Scimè, che si dirà una volta ultimate le operazioni di scrutinio, hanno infatti rappresentato gli ultimi due adempimenti prima dell'insediamento nei vari seggi che avverrà nel pomeriggio di sabato.